ciao a tutti igor cassina 42 anni ho vinto la medaglia d'oro alle olimpiadi nel 2004 nella ginnastica artistica conosco il grande mike maric da diversi anni a questa parte l'ho conosciuto in un evento di beneficenza quello che mi ha accomunato fin da subito a mike sono stati i valori la famiglia rispetto tanti valori che abbiamo totalmente allineati e da lì naturalmente è nata una bella amicizia e ci siamo un pochino scambiati le parti e le nostre figure professionali a oggi da lui ho imparato tantissimo a livello di respirazione come gestire lo stress e tanti altri aspetti legati al concetto di respiro soprattutto con i ragazzi che ho allenato fino qualche anno fa abbiamo avuto una bellissima collaborazione si è creata una bellissima sinergia dove i ragazzi hanno appreso concretamente l'arte di saper respirare e come gestire la respirazione durante i loro allenamenti da lì quindi è stato un susseguirsi di eventi che abbiamo vissuto insieme e tuttora collaboriamo in un bellissimo progetto grande mike un abbraccione e a presto